Tre veramente atleti splendidi, tre categorie di peso diversa, ma questo non significa nulla, doppio vecibile. Le gambe fanno la differenza. Volta la scatola in avanti, così. Vestira le gambe, dai capisci la gara. Dai capisci la gara. Lo sai. Le gambe, sempre. Di fianco il torace. Ampio, ampio sofferti, bene così. Tre gigite. Ampio sofferti, tirati su. Faccia bene sul gluteo. Così. Faccia felice. Di schiena, due più bicipite. Luceo. 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 Così. Tira, destra, cira. Tira. Falla differenza questa. Dai. Tira, tira. Di trucia. Di trucia, brava. Guardate, guardate. Lo sai. Luca Fedorani, appoggia. Legati sulla gara. Così. Altri gire. Tira, tira. Bravo. Bravissimo. Così. Davanti, grande addome. Giupito, Aga. Giupito, la spazza. Ok, rilassati un attimo. Rilassati, rilassati. Il Z9 va per favore vicino al Z4. Ok, così. Doppio bicipite. Vero con l'arri. Voi le gambe. Si lascia. Tirate di qua, adesso. Apre le gambe. Sono spacciate. Abre le gambe. Dispianco il torace. Così, io che puoi metto. Subito in grigio. Così. Amino. Vida dietro la sparaverza. Vero. Così. No, già non ti vede. Così. Così. Di schiena, doppio bicipite. Subito femorale. Forza. Ti piega la gamba. Così. Chiudi, chiudi, chiudi. Apre, chiudi. Cosa per le scapoli. E' la cosa qui. Bravo. Apri le scapoli. Apri. E dietro il torno. Davanti, gambo addome. Davanti. 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 Grazie.